Il rame libero, ovvero sia non legato con altre sostanze, all'interno del sangue umano potrebbe essere indice di una particolare predisposizione a essere colpiti da Alzheimer e da altre malattie neurodegenerative. La scoperta è stata fatta da uno spin-off dell'Università di Bari, Bio4Drag, vincitore della Start Cup 2010, organizzata da Innova Puglia, che ha sviluppato un kit di diagnosi in grado di individuare il rame libero con un semplice perilevo. Il progetto lo abbiamo diviso provincia per provincia, quindi ogni provincia avrà il suo studio e metteremo in evidenza per fascia d'età, per sesso, per scolarità, per patologie, per familiarità, metteremo in evidenza quali sono le criticità che ciascuna provincia presenterà e quale proiezione in termini di Alzheimer potremo avere. Alla fine noi avremo un database dinamico che servirà ai decisori politici per la programmazione sociosanitaria del prossimo futuro, che non può fare a meno di tener conto della devastazione dell'Alzheimer che è già presente in termini di numeri ma che si preannuncia come numeri ancora assai più impegnativo sulle tasche del Servizio Sanitario Nazionale e soprattutto sul costo e il management familiare. Una prospettiva interessante per combattere non solo l'Alzheimer, che in Puglia potrebbe colpire nei prossimi anni fino a 70.000 persone, ma anche malattie più rare, ma non per questo meno impattanti, come il morbo di Wilson, che colpisce soprattutto i bambini. Connettere il mondo della ricerca con quello dell'assistenza sta nella progettualità del coordinamento malattierare, quindi di chi governa questa regione. I risultati sono stati ottenuti perché una ricerca di questo tipo determina vantaggio immediato negli ammalati, si è connesso ha determinato una ricerca locale pugliese, ha determinato l'estensione della progettualità a livello nazionale in collaborazione con le associazioni degli ammalati, quindi per noi va benissimo così.